L'ex GFina, Clizia Incorvaia, ha compiuto 43 anni e ha festeggiato il suo giorno esclusivo con tutta la famiglia e gli amici e ha postato tante foto e una torta un po' speciale, tutta rosa con delle decorazioni azzurre e lei in jeans e maglietta rosa abbinata alla torta. Poi quando soffia le candeline indosso un vestito nero, ma la cosa più divertente è la scritta della torta. Essere una MILF non è un lavoro semplice, tanti gli auguri alla bella influencer, ma senza dubbio quelli più importanti per la ragazza sono stati quelli del compagno Paolo Ciavarro. Sei la mia vita, amore mio, le ha scritto.